In rete le bellezze e la storia dei 13 borghi più belli d'Italia. L'assessore regionale Felice Casucci ha incontrato stamane i sindaci delle Meraviglie della Campania presso la sala del Museo Civico di Sommonte. È stata l'occasione per tracciare un percorso condiviso finalizzato alla valorizzazione dei borghi attraverso un anello di congiunzione da diverse location e identità sul filo della storia e della cultura. Tesori di madre terra incastonati in una preziosa cornice di paesaggi suggestivi, set dal potenziale attrattivo straordinario come l'abitat ai piedi del Monte Partenio di Sommonte che ha ospitato l'evento. Fare nette fondamentali, ha sottolineato l'assessore Casucci, mettere al sistema le risorse e le bellezze paesaggistiche è una priorità della regione Campania, ha ribadito. Casucci ha poi invitato i piccoli comuni delle aree interne a presentare progetti mirati al turismo sostenibile ma la vera sfida è quella di creare un ponte e riuscire a far dialogare le aree costiere con quelle interne. Quello soprattutto di uscire dai nostri campanili perché il titolo proprio di questa iniziativa Facciamo Rete vuole creare le condizioni per trovare un'unica caratterizzazione perché noi siamo legati alla brand che ci viene riconosciuti come Burghi più belli d'Italia ma dobbiamo cercare di andare anche oltre questo brand per fare in modo che ci possa essere un unico anello di congiunzione tra aree interne e fascia costiere quindi cercare di fare in modo che i Burghi possano diventare per esempio Burghi della musica o Burghi della letteratura o Burghi degli antichi mestieri per riportare semmai attività artigianali nei nostri territori che possono anche rappresentare poi elementi di una ritrovata occupazione visto i dati di spopolamento che ogni borgo registra ormai ogni anno a proprio sfavore.